Allora, eccoci qua, Vittorio Feltri si è alzato e se ne è andato durante il servizio, mi spiace molto perché credo che non abbiamo fatto nessun processo, credo che siamo stati molto civili, abbiamo detto le nostre opinioni su un titolo di giornale che è finito sotto accusa, la notizia è quella di oggi, vi dobbiamo parlarne, credo che sia io che dunque a tre siamo stati molto urbani nelle nostre critiche e dunque mi spiace che non voglia parlarne con noi, se vuole tornare a sedersi io sono sempre molto contenta, qui tutti sono accolti con le nostre idee. Con grande educazione e civiltà.